Rischia di trasformarsi in un caso politico la prima del film Il sindaco pescatore dedicato ad Angelo Vassallo, il primo cittadino di Pollica ucciso a colpe di pistola il 5 settembre del 2010. La proiezione della pellicola è prevista per il 5 febbraio al cinema Barberini di Roma. Dario Vassallo, fratello del sindaco assassinato e promotore della produzione cinematografica, ha invitato alla proiezione solo tre sindaci del Cilento ed esattamente Pino Palmieri di Roscigno, Eros Lamaida di Castelnuovo Cilento e Maurizio Tancredi di Casella in Pittari. L'invito solo a loro tre è stato giustificato dal fatto che sono stati promotori di iniziative a favore della legalità in ricordo del fratello. Una scelta che è stata pesantemente criticata dal sindaco di Gioicilento Andrea Salati, sicuramente spiega Angelo mai si sarebbe sognato di trovarsi in una situazione che lo vedeva isolato dai suoi colleghi rappresentanti del territorio che tanto amava. Non capisco il perché di questa presa di posizione del tutto legittima da parte della fondazione diretta da Dario Vassallo che si accanisce contro i sindaci cilentani sovvertendo la volontà e l'operato del proprio grande congiunto. Angelo deve continuare a vivere ancora qui e sarebbe più logico che qui gli venga attributato il doveroso omaggio da parte di tutti ma in particolare da parte di chi ha condiviso con lui l'amministrazione quotidiana delle popolazioni cilentane per cui Angelo si prodigava. Alla prima del film sono state invitate diverse autorità italiane ed il presidente del senato Pietro Grasso ed è proprio a quest'ultimo che il sindaco di Gioi intende far recapitare un documento sottoscritto da tutti i sindaci del Cilento che spieghi al presidente del senato il perché dell'assenza degli amministratori cilentani alla prima del film. Alla proiezione non è stato invitato nemmeno il sindaco di Pollica Stefano Pisani, è una questione dice che non mi interessa, ho dato il mio contributo quando hanno eseguito le proiezioni del film in paese. Continuo anche io a ricordare Angelo e a lavorare nell'interesse del mio paese. In altre questioni non intendo entrarci.